Una polemica tutta aquilana che coinvolge il giornalista Bruno Vespa a prendersela con lui e il segretario provinciale della Federazione Italiana di Medicina Generale Vito Albano. Non è accettabile per lui che Vespa abbia dato la colpa dell'intasamento dei pronto soccorso ai medici di famiglia in una sua trasmissione. I numeri per Albano parlano chiaro, 6 milioni di persone malate, i medici di base hanno un numero abnorme di persone da seguire con molte polmonite rispetto al passato. Problemi che derivano dalla carenza di organico, da una situazione cronica ormai che vivono i pronto soccorso di tutta Italia, le persone che si ricoverano poi devono necessariamente passare per il pronto soccorso. Dichiarazioni quelle del giornalista Aquilano che per il segretario della FIM sono diffamatorie e che i medici di famiglia non sono più disposti ad accettare. Io non ho voluto portare un attacco a Bruno Vespa. Il porta a porta dell'altro giorno è stata solo una goccia che ha fatto rabboccare un vaso che era già colmo per un atteggiamento iniziato da un articolo di Repubblica dei primi dell'anno e poi ripreso da una serie di testate locali sul territorio nazionale in cui si è incolpato alla inattività dei medici di famiglia quello che sta succedendo in ospedale cioè un intassamento dei pronto soccorsi e una impossibilità di dare risposta da parte dell'ospedale alle varie necessità di ricovero che ci sono in questi giorni. Davanti a un numero del genere non è strano né che i nostri studi siano intassati né che le richieste di visite domiciliari a noi sia altissima e quindi anche difficile smaltire tutto né che gli ospedali siano in difficoltà né che i pronto soccorsi siano intassati. La realtà dei fatti alla quale ci dovremmo invece una volta per tutte mettere a tavolina e discutere seriamente è che i medici di famiglia non sono messi in condizioni di poter svolgere il loro lavoro al massimo perché lo Stato o la Regione non ce l'hanno mai permesso. I pronto soccorsi stanno lavorando sotto organico perché non si sono fatte assunzioni si trovano in serie difficoltà inoltre svolgono anche un'attività di accettazione dei ricoveri oltre che l'attività di pronto soccorso e i posti letto sono stati tagliati negli anni precedenti in base a una programmazione che poi si è vista è stata inefficiente sia durante il periodo della pandemia e sia adesso.